Quest'anno finalmente dopo due anni di pandemia e di restrizione di piccolo magic come la parola che l'aveva chiamato torna il grande Magic Castle come nel 2019, l'ultima edizione full con un tema incredibile. Quest'anno parliamo di invasion, di invasioni ma di bellezza, di fantasia e di divertimento con questi mega insetti, mega animali che invaderanno letteralmente il borgo di Gradara. Oltre ai draghi, che saranno quattro draghi quest'anno dall'Olanda, come di consueto avremo il gigantesco ipopotamo di 6 metri e ha tanti altri grandi animali e insetti che però non vi svelo perché dovete venire a vedere a Gradara. Sarà un'edizione finalmente che ritorna grande e in completa espansione come è sempre stato e con ancora più spettacoli per tutti, dai bambini fino agli adulti e un'accoglienza davvero a braccio aperto per ritrovare una normalità che è davvero stata tanto agognata e finalmente quest'estate potremo ritrovarla. Quindi 7, 8, 9 agosto, grazie alla Proloco di Gradara, vi aspettiamo al Magic Castle edizione 2022. Grazie a tutti.